Ciao, so niente di Susanna? No. Ma non so niente nessuno? Eh, prove con lui. L'unica cosa che so è che hai le chiavi della casa amare di un mio amico. E poi ci sarebbero dei soldi. Soldi? E allora? Niente, fino a domani mattina. E fino a domani mattina?